Oggi un video speciale su Arte per Te Questa è Arte per Te Arte per Te Ciao a tutti e bentrovati sul canale Oggi un video davvero speciale su Arte per Te perché non vi parlerò di arte o meglio ve ne parlerò in senso lato 15 e 16 luglio giornate Amazon Prime cioè giornate in cui si possono fare acquisti scontati e allora mi sono messa a fare una selezione di tutte le cose che abbiamo usato su Arte per Te e che potete trovare oggi soltanto oggi e soltanto se siete clienti Amazon Prime a prezzi veramente veramente super super scontati vi metto la mia selezione dei prodotti qui giù nell'info box ovviamente i prodotti scontati su Amazon sono molteplici e di molteplici categorie io qui su Arte per Te ho fatto semplicemente una selezione utile per darvi una leggenda qualora vi servisse non è un acquistate perché a me me ne viene qualcosa assolutamente no a me me ne viene perché i link sono affiliati Amazon però non acquistate se non avete bisogno però vi dico che se vi servono per esempio le matite stabili acqua color trovate la confezione grandissima a 12-13 euro quindi ve l'ho messa qui giù in info box vi dico da cosa è composta la selezione che ho fatto io vi ho messo un bellissimo seghetto alternativo perché so che mi chiedete sempre come fai a modellare il legno come si usa quello è facilissimo da usare vi ho messo il Dremel a prezzi scontatissimi costa sulle 80 euro 70 euro il pluriaccessoriato quindi il top di gamma lo trovate sempre qua sotto per le incisioni quando io uso per incidere il vetro quando lo uso per incidere il legno me lo chiedete sempre vi ho messo una selezione della Sitzix la Big Shot tutte le Big Shot sono quasi tutte super mega scontate a prezzi pazzeschi è una serie di fustelle Sitzix a prezzi pazzeschi vi ho cercato i colori ci sono gli stabili acqua color nella confezione da 32 ad un prezzo ridicolo ragazzi se non li comprate vi uccido non scherzo però se vi servono le matite colorate compratele perché costano una veramente miseria voi che fate il corso di disegno che mi chiedete quali sono le mie matite preferite sono quelle ve lo dico da una vita ora le potete avere a 13 euro mi sento tanto Vanna Marchi in questo video e mi dispiace anche però è un video che ho voluto fortemente fare proprio perché non volevo farvi perdere queste offerte siccome nella moltitudine di offerte poi uno si confonde cerca sempre magari i cuscini per il divano e si dimentica delle belle arti ho voluto focalizzare qui su questo canale le cose che possono servirvi c'è la colla stick print ci sono gli scotch biadesivi della M3 i marker della Sharpie a 2 lire della Winsor & Newton a pochi euro anzi a 2 euro no vabbè a pochi euro della Winsor & Newton insomma una selezione colorata per voi allora i link ve li lascio qua sotto i link che vi lascio ovviamente sono tutti i link affiliati Amazon e fate i vostri acquisti in maniera intelligente questo non è un video spinto all'acquisto non vi sto dicendo andate ed acquistate ma vi sto dicendo se volete comprare la Big Shot se vi servono le matite per il corso di disegno se vi serve il Dremel che lo desiderate da tanto tempo sappiate che adesso è in super promo e solo per oggi 16 luglio quindi è un video estemporaneo lampo stampo bene ragazzi questo è quanto quello che vi dovevo dire lo trovate tutto in infobox ovviamente le offerte a Prime sono 2 miliardi potete spaziare in tutto quello che volete ma il focus di arte per te è sicuramente dato su queste cose che ci interessa avere attenzionate le stabili acqua color che hanno un costo shock veramente sto spingendo su quello perché tra tutte quello che costa meno è quello che forse serve più spesso bene ragazzi spero che questo video possa essere utile a qualcuno se non lo è mi dispiace ma volevo farlo proprio per non farvi perdere questa occasione perché sempre mi chiedete ombretta ma tu su internet come trovi le offerte come fai ecco si trovano così le offerte sono un lampo e va carpito se serve qualcosa non fatevi prendere dall'onda del compro tutto perché con lo sconto comprate se no non è più uno sconto comprate mirato quello che vi serve ma è bene sapere che quella cosa è lì adesso con la possibilità di essere acquistata a poco prezzo basta cianciare spero che questo video vi sia in qualche modo gradito noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video creativo da ombretta e da arte per te è tutto buon Prime Day a tutti e fate acquisti colorati se vi va ciao